Buongiorno e bentornati da Mondolfo Ferro. Oggi vi farò vedere una dimostrazione di una calibrazione di un sistema ADAS con la tecnologia PRO ADAS abbinata all'assetto 3D Trigon Supernovo. Abbiamo due possibilità per effettuare questo tipo di calibrazione in questa configurazione. La prima è che possiamo effettuare la procedura d'assetto classica, per cui selezionando la bancata dall'assetto fare tutte le nostre operazioni di assetto ruote e alla fine, prima di entrare in pagina di stampa, sarà il software dell'assetto a ricordarci che il nostro veicolo può essere dotato di sistemi ADAS e per cui ci chiederà se vogliamo eseguire questa calibrazione continuando con il software del PRO ADAS. In questo caso dobbiamo fare altro che togliere i due target nella sala anteriore e continuare la procedura di calibrazione con il nostro carrello ADAS. Oppure, come faremo adesso, possiamo, se l'assetto è già stato eseguito precedentemente, possiamo andare direttamente nella procedura ADAS saltando quello che è tutta la procedura d'assetto. Per cui, entrando direttamente nella procedura ADAS, il software ci chiede se vogliamo eseguire la calibrazione, confermiamo, ci suggerisce, ci dice che dobbiamo posizionare il nostro carrello tra l'assetto ruote e il veicolo, per cui tra allineatore e ponte. Una volta posizionato il carrello in questa posizione ci suggerisce che dobbiamo andare a utilizzare questi mini target, per cui, come già detto, dobbiamo togliere quelli che sono i target anteriori dell'assetto ruote e utilizzare questi mini target che vanno montati sulla barra del carrello PRO ADAS. Chiaramente, uno nel lato sinistro, uno nel lato destro, vanno posizionati e bloccati in bolla. Una volta posizionati i due mini target, possiamo proseguire andando a posizionare quelle che sono le telecamere dell'allineatore all'altezza corretta, in modo da avere a monitor tutti e quattro i target visualizzati. Per cui dobbiamo attendere che le telecamere si posizionino all'altezza corretta e lo andiamo a fermare quando a monitor abbiamo tutti e quattro i target visualizzati. Abbiamo i due posteriori, dobbiamo attendere di vedere anche i due mini target anteriori. Una volta posizionate le telecamere e fermate all'altezza corretta, con tutti e quattro i target a monitor, possiamo proseguire con la procedura di calibrazione ADAS. A questo punto andiamo a proseguire selezionando quello che è il veicolo dal software della diagnosi e del PRO ADAS. Se avessimo fatto l'assetto ruote, in automatico l'allineatore, che è in comunicazione con l'ADAS, avrebbe selezionato in automatico il veicolo, prendendolo come riferimento a quello selezionato sul software dell'allineatore. In questo caso dobbiamo andare a fare la selezione direttamente dal software dell'ADAS. Dobbiamo innanzitutto collegare la nostra diagnosi, la Johan Cruise, per cui dobbiamo collegare la diagnosi e chiaramente accendere il quadro del veicolo. Collego la diagnosi alla presa OBD e accendiamo il quadro del veicolo. A questo punto andiamo a selezionare la banca dati, qui abbiamo diverse possibilità, possiamo andare a fare una selezione manuale da marca e modello, oppure abbiamo la possibilità di inserire il VIN del veicolo e in automatico ci viene pescato il modello, oppure con un pacchetto accessorio è possibile anche selezionare il veicolo inserendo il numero di targa. In questo caso andiamo a effettuare una selezione manuale, per cui andiamo marca Volkswagen, modello Golf, e Golf in questo caso Golf 8 e anche la cilindrata 2000 TDI. Una volta selezionato il veicolo andiamo a metterci in comunicazione con la centralina del veicolo e ci vengono visualizzate a schermo, a software, tutte le centraline o comunque le funzioni legate all'ADAS, per cui andiamo a selezionare la funzione Pocayoke per poter eseguire la calibrazione dei sistemi ADAS, seleziono calibrazione ADAS e posso andare in questo caso, in questo veicolo, abbiamo la possibilità di calibrare sia la telecamera anteriore che il radar anteriore. Faremo una dimostrazione della telecamera, per cui vado a selezionare calibrazione statica telecamera, informazioni preliminari, per cui in questo caso il software ci dice per l'operatore in esperto alcune informazioni preliminari come il tipo di procedura che andremo a eseguire, per cui calibrazione statica con il riferimento dell'assetto ruote, con il riferimento dell'angolo di spinta, ci viene detto quando è necessario eseguire questa procedura, per cui quando si sostituisce il parabrezza, quando si sostituisce la centralina, quando viene smontato e montato il parabrezza, quando si regola la convergenza posteriore, tutte informazioni preliminari per l'operatore in esperto che uno può andare a leggere oppure a saltare se è già a conoscenza. Una cosa importante è, come in questo caso, che lavoriamo col veicolo sul ponte, dobbiamo andare a inserire quella che è l'altezza del ponte, per cui è un'altezza che io devo inserire nel setup del PRO ADAS, della diagnosi, in modo da che il software sappia la differenza di altezza tra carrello e veicolo. Proseguiamo, secondo step di informazioni preliminari per l'operatore più in esperto, ci viene elencato tutto quello che ci servirà per eseguire questa procedura su questo veicolo, per cui ci servirà chiaramente il pannello Volkswagen, diciamo del gruppo VAG, per cui Volkswagen, Audi, Skoda e Seat, se chiaramente, come in questo caso, lavoriamo con l'attrezzatura che lavora con i pannelli fisici. Se invece abbiamo l'attrezzatura digitale, per cui con il monitor, dovremo andare a caricare l'immagine corretta del nostro pannello. Poi ci servirà questa staffa, che la vado già a posizionare insieme al distanziometro, che è una staffa che ci permette di misurare la distanza, per posizionare il carrello alla distanza corretta, per cui la vado a posizionare sulla ruota anteriore sinistra e a mettere in bolla. Una volta posizionata la staffa, ci viene detto che dobbiamo anche montare le due staffe d'assetto nelle ruote posteriori, se abbiamo eseguito l'assetto precedentemente le abbiamo già montate, se non abbiamo eseguito l'assetto devo andare a montare, in questo caso sono già montate con anche i target posteriori dell'allineatore. In questo caso ci viene ricordato che dobbiamo usare i target posteriori e i mini target, non i target anteriori come abbiamo già detto, ci servirà la nostra diagnosi e i distanziometri per il posizionamento del carrello. Ultimo step di informazioni, poi inizia la nostra procedura, ci viene spiegato come andare a preparare il veicolo per la procedura, per cui dobbiamo bloccare il volante dritto, che in questo caso l'ho già bloccato precedentemente, posizionare il carrello davanti al veicolo, ci viene mostrato dove si trova la telecamera, ci viene mostrato come si monta la staffa che ho appena montato, per cui appoggiata sul pneumatico messa in bolla, con il distanziometro sopra, con il puntatore laser acceso. Qui ci viene spiegato come montare le staffe posteriori d'assetto ruote, che le abbiamo già montate, montare i target posteriori e montare i mini target sulla barra che ho già montato precedentemente. A questo punto dobbiamo posizionare il nostro carrello all'altezza giusta in modo che il nostro puntatore laser sia puntato sulla nostra barra del carrello. A questo punto parte la nostra procedura di calibrazione, il primo step è quello di posizionare il carrello alla distanza corretta rispetto in questo caso al centro ruota dell'asse anteriore. Il software ci indica che siamo troppo distanti, valore rosso per cui fuori tolleranza, e la freccia ci indica che dobbiamo avvicinarci al veicolo, per cui vado manualmente a spostare il mio carrello fino a ottenere il mio valore verde. Andiamo ad accendere la nostra lama laser in modo da posizionarci già più o meno nel centro del veicolo. Una volta posizionato il carrello più o meno nel centro del veicolo, possiamo proseguire col prossimo step. Il prossimo step è quello di allineare il carrello con l'asse di spinta del veicolo e posizionarlo ortogonale rispetto all'asse di spinta del veicolo. La distanza, che è il primo valore che vedete in alto, è verde, per cui siamo alla distanza corretta, non siamo allineati e come ci viene indicato dalla figura, dobbiamo traslare il nostro carrello verso sinistra. Prima di andare a effettuare questi movimenti è sempre consigliato bloccare il carrello a terra in modo che non si muova dalla nostra posizione, per cui con i quattro piedi regolabili vado a fissarlo a terra e nel caso, se avessi un pavimento non regolare, vado a, sempre sfruttando questi quattro piedi, a posizionare il carrello in bolla. A questo punto posso andare a effettuare la mia regolazione sia a livello di allineamento che di ortogonalità, in questo caso, essendomi già centrato più o meno con la lama laser, siamo già ortogonali, dobbiamo solo portarci allineati con l'asse di spinta, per cui con questa manopola che ho montata sul carrello ho la possibilità di traslare il mio carrello sinistra-destra in modo da portare il nostro valore in tolleranza. La tolleranza è 0,3 centesimi, per cui vado a traslare la mia barra fino a quando il mio valore diventa verde. A questo punto, essendomi spostato in traslazione, sono uscito anche di ortogonalità, per cui con questa seconda manopola vado a ruotare la mia barra, come ci indicano le frecce, in questo caso in senso orario, fino a portare il mio valore di ortogonalità, anche lui, in tolleranza. A questo punto siamo alla corretta distanza, allineati rispetto all'asse di spinta, ortogonali rispetto all'asse di spinta, l'ultimo step è quello di portarci all'altezza corretta, per cui vado ad accendere anche il secondo distanziometro. Il software ci ricorda di verificare che la nostra struttura sia in bolla. Premendo OK, passo all'ultimo step, che è quello di portare il mio carrello all'altezza corretta. Qui siamo già all'altezza corretta, vedete che il valore è verde, se fossi fuori tolleranza, vado a spostare leggermente, valore rosso, il software ci indica di doverci abbassare, e in questo caso il movimento verticale è un movimento elettrico con un pulsante che abbiamo qui sul carrello, che mi permette di abbassare o alzare il nostro carrello. A questo punto posso proseguire e il prossimo passaggio sarà quello di misurare le altezze del veicolo che faremo dopo. Possiamo andare a spegnere i nostri puntatori, la lama laser, che non serve più, anche il puntatore della distanza. Andiamo a montare il nostro pannello. Se avessi avuto la versione con il monitor, andavamo a caricare l'immagine del pannello corretto sul monitor. In questo caso utilizziamo il pannello fisico, per cui vado a prendere il mio pannello, lo devo andare a posizionare sul carrello, per cui agganciato in alto, bloccato sotto con questi due clip, e fissato sopra. A questo punto ci viene indicato che la diagnosi chiaramente deve essere collegata e possiamo andare a selezionare calibrazione della telecamera, sistema di assistenza basato su telecamera. Andiamo a premere di voler eseguire la nostra taratura, confermiamo, andiamo a accendere il nostro distanziometro perché le altezze le andremo a misurare in automatico col puntatore laser. Confermiamo. A questo punto devo andare a inserire i quattro valori di altezza da passaruota a terra. Vado a selezionare altezza anteriore e sinistra, posiziono il distanziometro, lo faccio puntare a terra, premo e in automatico il distanziometro invia il valore di altezza via bluetooth al nostro software. Posteriore e sinistra, vado a eseguire la stessa operazione. Ok. Posteriore e sinistra. Ok. E per ultima, anteriore e sinistra. Vado a togliere la mia staffa, se no non riesco a prendere la misura, vado sempre a puntare a terra col puntatore laser e vado a memorizzare anche l'ultima altezza. A questo punto siamo pronti per eseguire la calibrazione, importante chiaramente che non ci sia niente in mezzo tra telecamera e pannello, che il vetro sia pulito nella zona della telecamera, comunque sono tutte cose che ci vengono indicate anche dal software, per cui controllare l'illuminazione, riflessi, che il vetro sia pulito, che non ci sia niente in mezzo, andando a premere ok, la nostra diagnosi andrà a memorizzare in centralina i nuovi parametri di calibrazione. Calibrazione in corso, calibrazione completata, premere ok per terminare. Questa è la procedura di calibrazione di una telecamera, attivazione conclusa con successo, chiaramente una volta terminata la nostra procedura possiamo andare a chiaramente salvare, creare un nostro report di stampa, dove, come possiamo vedere a monitor, vengono salvati tutti i valori, diciamo, i parametri di calibrazione, per cui chiaramente il modello, il modello del veicolo, chiaramente procedura eseguita, tutti i dati riguardanti la nostra versione di ProAdas, i valori di posizionamento, in modo da certificare, fra virgolette, che il carrello è stato posizionato come dice il costruttore, e i valori di calibrazione, chiaramente precedenti, come era prima e post la calibrazione che ho eseguito.